Come giudica la richiesta delle sue dimensioni da parte di un membro della sua ex giunta tecnica? Non sono aggiornato, scusate, no. L'ex assessore ha chiesto le mie dimensioni. Voglio che mi crediate, non ho avuto modo, anche perché sono stato impegnato in questi ultimi giorni a seguire una cosa seria, non questa cosa poco seria, che è la vicenda dei precari. Però non sapevo assolutamente, del fatto che non facciamo nulla, ma questo lascio perdere perché sono stanco di ripetere sempre le solite cose, veramente non voglio più rispondere a queste cose, io rispondo di quello che faccio ai cittadini, non a Michele Montalbano, a Michele Montalbano nella qualità di cittadino. Allora gli dico a Michele Montalbano, vattene a rileggere le relazioni che abbiamo fatto insieme e vattene a rileggere la prossima, vattene a leggere la prossima, come dire, relazione che sto preparando e che depositerò agli altri. Ci sono tutta una serie di cose che noi stiamo facendo e questo non vuol dire, io non l'ho mai detto, che a Favara non ci sono problemi. A Favara ci sono tantissimi problemi, che io ereditato, non li ho causati io, forse qualcuno però deve mettere un po' a regime, come dire, le idee e le opinioni. Io tutti questi problemi di cui quotidianamente discutiamo a Favara, non ce n'è uno che ho creato io, io le ho ereditate tutti da 50 anni, da 60 anni di mala gestione. Io sono stato eletto da 11.000 rotti cittadini favaresi. Michele Montalbano è un dato, benché abbia fatto per 16 mesi il mio assessore, non mi ha votato perché era candidato in una lista avversaria, era candidato a sinistra, oggi è nell'ambito del centro-destra, dopo essere passato per una giunta tecnica, le ha fatte tutte. Ma non credo che possa dire che mi revoca il voto che mi ha dato, perché credo che era candidato nella lista di sinistra e appoggiava un altro candidato. Nonostante questo ho accettato che venisse a fare il mio assessore, perché ho guardato più alle persone, piuttosto che alla provenienza politica in quella giunta, e lo avevo anche detto, quindi che oggi lui mi chieda le dimissioni, sono da parte di qualcuno che non mi ha nemmeno votato, non credo che mi preoccupi più di tanto. Mi si dia quantomeno il tempo di completare la legislatura, e ci sono ancora ben due anni, molte cose le completeremo in questi due anni. Forse con la mia richiesta di dimissione si vuole fare in modo che le cose non si completano, così che si possa dire che non le ho realizzate.